Ehi, ma quante zanzare quest'anno? Ehi, mi passi lo spray per favore? Welcome to the Power Awards Yes, I know, ci sono un sacco di parole in anglo-italiano nella nostra lingua But what can we do? Oggi, your host Max Veracini vi parlerà della parola Spray, no spray Vediamo in inglese che vuol dire E vedete, qui è proprio il getto o la nebulizzazione del liquido Un vero e proprio device che rilascia il getto di spray Lo spruzzino per le piante Che non credo si chiami spray in italiano Because spray, for us, è la bomboletta spray Spray, whatever Ma questo spray da dove viene? Apparentemente it comes from middle Dutch Related to middle high German Non fatemi di pronunciare perché non so se ti pronuncerò bene E pare che non abbia alcun collegamento con il latino Ma in qualche modo spray e spruzzo condividono questa prima parte Sprrrrrr Che forse dà l'idea dell'acqua o di altro liquido che esce dallo spruzzino Who knows? Well, io sono Max Feraccini And this is the Power Awards Voci.fm Goodbye now E poi Grazie.